Quando a volte ci aiuta, a volte ci distrugge, ma noi non ci facciamo distruggere. Allora, intanto questa è una puntata molto speciale, ma in tutti i sensi, della rubrica Io sto con te e tu, una rubrica appunto di AISF, dove ogni settimana abbiamo il piacere e l'onore di avere degli illustri professionisti nel campo medico. Oggi sono lieta appunto di presentare il professor Galli, ordinario di malattie infettive presso l'Università degli Studi di Milano. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. E chiedo bene e perdono di questo problema tecnico. E poi abbiamo anche con noi il professor Piercarlo Sarsi Puttini, anche lui professore di aromatologia presso l'Università degli Studi di Milano. E voglio anche sottolineare, facendo parte del direttivo del CREI, perché oggi questa trasmissione non solo a EGIDA AISF, ma questa rubrica, chiamiamola rubrica, non solo a EGIDA AISF, ma anche a EGIDA CREI, il Collegio Romano Toggi Italiani, che ringraziamo e spero che possano mandare adesso in onda la diretta, perché appunto sono tutti collegati che aspettavano appunto questo momento, proprio per l'importanza dell'argomento che verrà trattato stasera. Il titolo della puntata è Vaccino Covid e Fibromialgia. Naturalmente in fibromialgia poi noi andiamo comunque a fare delle domande al professore relativamente ad altre patologie appunto reumatologiche e immunologiche, visto che ha suscitato l'interesse anche di diversi malati reumatologici, che non sono soltanto aspetti da fibromialgia, ma purtroppo anche di altro. Quindi io direi di partire che siamo ampiamente in ritardo e quindi inizio a fare una... Volete voi due salutare e dare un saluto a chi è in diretta? No, con la mano non la vedono, quindi dovete dire ciao a tutti. Ciao a tutti, siamo pronti, dai, passiamo subito al sodo. Ok, benissimo, mi garantisco che i prof sono qui, dai, alla grande. Allora, professor Galli, partiamo con la prima domanda. Molto, diciamo, generica, complessa, dove credo che lei abbia molto da dire. Che cos'è realmente il vaccino e quanti tipi di vaccino ci sono? Qual è il meccanismo che fa funzionare appunto questo vaccino? Ma allora, in linea di massima e in linea di prospettiva, i vaccini sarebbero addirittura cinque tipi terzi fondamentali, ma in realtà cinque sono i tipi diversi, cinquantotto sono i vaccini diversi attualmente in sperimentazione umana e di questi cinquantotto almeno una quindicina dovrebbero essere agli stadi finali di sperimentazione. in fase preclinica ce ne sono altri 85, quindi voglio dire, è chiaro che su questa cosa si è buttato il mondo per cercare di avere dati. I cinque tipi di vaccini sono quello più, come dire, grezzo di tutti, fatto con un vaccino inattivato, con un virus inattivato, quindi il vaccino è fatto dal virus ucciso. Ci sono due vaccini di questo tipo, ma probabilmente ce ne saranno anche altri in giro per il mondo, ma due prodotti in Cina. È un vaccino di cui sappiamo, come dati ufficiali, molto poco, ma che comunque non dovrebbe essere nemmeno malaccio dal punto di vista delle capacità di dare una risposta in modo. quale ruolo potrà mai avere e quale ruolo potrà mai avere nel nostro paese questo tipo di vaccini? Non lo sappiamo, non abbiamo modo di poterlo dire allo stato attuale dei fatti. Un altro tipo di vaccino è quello fatto con virus vivo attenuato. Ci sono almeno un paio di vaccini sperimentali che vanno in questa direzione. Francamente non credo che nemmeno questa sarà una via che ci porterà particolari risultati. Mi domando se svilupperanno qualche cosa pensando in modo particolare ai bambini, dove chiaramente il modo di somministrazione di solito è per installazione nasale è molto più comodo che per altre vie. Però, francamente, credo che questa sia una strada che non ha per il momento grandi sviluppi in termini brevi. Poi abbiamo i vaccini di subunità che sono un filo più raffinati. Tu tiri fuori delle proteine virali dal virus in quanto tale, cioè produci dei vaccini che contengono varie proteine del virus selezionate e titolate. Ad esempio, il vaccino Novavax che è ultimamente tornato alla ribalta è un vaccino con queste caratteristiche. Se quando l'avremo a nostra diretta o come dire utilizzo, non ve lo so però francamente ancora di dire. Lasciamo in fondo i due tipi di vaccini che invece sono a breve in grado di essere o sono già in uso o potranno esserlo molto a breve. Il vaccino di AstraZeneca, ad esempio, ma non solo quello, un vaccino cinese, quello di Cansino, quello della Johnson & Johnson, che è un ulteriore vaccino, il vaccino cosiddetto Sputnik, cioè quello russo, sono tutti basati sul principio dell'utilizzo di un virus vettore, di regola un virus inattivato, un virus non in grado di replicare, quasi sempre un adenovirus che porta all'interno del nostro organismo dei geni del virus della Covid e induce, quindi, esprimendo appunto le proteine di questi geni, induce il nostro organismo a fare anticorpi contro questi geni. Quindi l'idea è usare come cavallo di Troia un virus non attivo nell'uomo e anche inattivato come capacità replicativa e mettergli dentro a questo punto Ulisse e i compagni che a questo punto però invece che uccidere noi ci dovremmo salvare. Facciamo i troiani di turno, vanno invece a suscitare una risposta immune che potrà uccidere il virus. Ok, perfetto, continuiamo. Certo dell'incontro con. Ok. Sento delle voci di sottofondo, spero che... No, no, tutto a posto, però su può andare. Ok. Ultimo, ma assolutamente non ultimo, sono i vaccini prodotti con mRNA, con RNA messaggero, quindi una porzione particolare dell'acido nucleico del virus, del virus della Covid, che vengono inoculati in quanto tali, arrivano nelle nostre cellule, fanno questi RNA messaggeri il loro compito e cioè inducono a codificare le nostre cellule degli antigeni del virus che vengono poi sottoposti al nostro sistema immunitario che si attiva contro questi antigeni. Stiamo parlando del vaccino della Pfizer e del vaccino di Moderna, che sono quelli già in uso in Italia. Questi sono i cinque tipi di vaccini, ma di questi appunto quelli che hanno un interesse più immediato sono il vaccino prodotto con RNA messaggero del virus e il vaccino che ha gli adenovirus come vettori. Ok. Facendo il vaccino, si corrono dei rischi? Se sì, quali sono? Ma in realtà per quelli di cui conosciamo più cose che sono quelli che arriveranno rapidamente in uso, che sono già arrivati o che arriveranno rapidamente in uso, gli effetti collaterali sono decisamente modesti. non infrequente, anzi decisamente frequente, è il dolore in sede di inoculo, che però francamente è raramente di importanza, di discreta importanza. Normalmente è un risentimento minimo in sede di inoculo. io devo dire che per quanto mi riguarda, però, forse viene lamentato forse più frequentemente dalle donne o dalle persone con una massa muscolare magari meno meno marcata per quanto mi riguarda. Io un quarto d'ora dopo aver fatto la vaccinazione non mi ricordavo in che braccia l'avevo fatta. Ecco, per cui c'è un fastidio veramente minimo. Ecco, questa è la questione più frequentemente la cosa più frequentemente riportata è lamentata. Quindi, un po' di riconfiamento, ma questo è raro, un po' di arrossamento, anche questo è raro, un po' di dolore riportato più frequentemente. Poi ci sono cose come mal di testa, stanchezza, dolori muscolari un po' generalizzati, febbre, qualche volta disturbi gastrointestinali e vomito, ma questi veramente molto rari, ma anche gli altri insomma o rari o di portata modesta. dolori muscolari alle giunture hanno riguardato tra l'altro tutte queste cose, la cosa curiosa è che almeno per il vaccino di Pfizer sono state lamentate in maniera decisamente maggiore dai giovani vaccinati rispetto ai vaccinati con più di 55 anni. ci si domanda quanto appunto anche attorno a tutto questo visto che poi ecco per dire l'astenia è stata lamentata dopo la prima dose dalla 47% dei vaccinati prima dei 55 anni di età ma anche dal 33% di quelli che hanno preso placebo. Ho capito. Quindi una certa funzione credo ansiogena o comunque un qualche elemento di preoccupazione che ha indotto queste persone a lamentare dell'astenia c'è stata a tal punto che anche quelli che hanno e questo vale anche per il mal di testa sempre nei più giovani 42% dei vaccinati 34% dei non vaccinati queste cose suggeriscono insomma uno è andato a farsi questa vaccinazione convinto di farla e di partecipare a questi studi ma con qualche retropensiero con qualche timore che ha un po' portato credo ad empatizzare alcuni dei sintomi però a questo siamo e niente di più ho capito andiamo un'altra domanda che è molto molto c'è stata fatta dal primo momento insomma sia inizialmente quando c'era un discorso legato proprio alla malattia adesso ha maggior ragione con il vaccino infatti molti pazienti ci chiedono se il vaccino può essere fatto da che effetto da sindrome fibromialgica ma io aggiungerei assolutamente anche se può essere fatto da che effetto da una patologia romatica o infiammatoria e soprattutto quali sono i pro quindi nel farlo nel caso in cui appunto si affetti da queste patologie croniche o se ci sono dei contro appunto per il fatto di essere affetti da queste malattie inizialmente la domanda era quella di dire ma io che sono fibromialgica sono più propensa oppure sono una malata appunto con delle altre patologie aromatico-minologiche sono più propensa a prendere il covid adesso la domanda è appunto relativa al vaccino io che sono malata fibromialgica malata di artrite malata di shoghen insomma di tutte le malattie croniche e romatiche posso fare il vaccino e se posso quali sono i pro e quali sono i contro ma allora i vaccini sono stati sperimentati su un gran numero di persone nella fase cosiddetta terza di sperimentazione e chiaramente non in numero esteso per quanto riguarda le persone con particolari condizioni cliniche prof dovrebbe alzare un po' la voce poco a poco i vaccini sono stati sperimentati in popolazioni ampie allo studio però per quanto ampie fossero non potevano prevedere al loro interno numerosità importanti di persone con particolari condizioni più o meno rare più o meno infrequenti ma anche comuni insomma per cui la domanda che riguarda la possibilità di vaccinare le persone con particolari patologie è una domanda che non ha una risposta sperimentale già assodata ci si comporta in questo caso come ci si comporta per altre condizioni le società scientifiche hanno detto chiaro ad esempio che la vaccinazione anti-influenzale può essere fatta e deve essere fatta alle persone con patologie reumatiche allo stesso modo siamo tutti convinti che la vaccinazione delle persone con fibromialgia reumatica è assolutamente possibile e addirittura da consigliare chiaramente alcune informazioni sulla capacità di risposta sulle caratteristiche eventualmente degli effetti collaterali le conosceremo meglio dopo appunto aver avuto il modo di vaccinare un certo numero di persone però il rapporto costi benefici cioè il rapporto tra l'opportunità di vaccinare ed avere risultati importanti rispetto all'abbastanza improbabile soprattutto con i vaccini attualmente a disposizione eventualità di avere degli effetti collaterali più marcati rispetto alla popolazione generale pende tutto a favore della vaccinazione e quindi si vaccinerà e ci siamo anche messi ad organizzare a prevedere l'organizzazione della vaccinazione dei pazienti in particolare di quelli che hanno delle patologie con immunodepressione o stanno facendo farmaci che hanno un'azione immunodepressiva mi riferisco in modo particolare ai pazienti con artrite romatoide piuttosto che con altre patologie autoimmuni ci stiamo organizzando per fare la vaccinazione anti-covid a queste persone e per tranne il più possibile informazioni utili andando a valutare come e quanto rispondono per quanto tempo avranno una risposta valida e tutte queste cose che credo che siano molto importanti posso fare un commento certo ma dunque io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Massimo è chiaro che il primo messaggio forte è chiaro deve essere quello che la vaccinazione tutti la devono fare perché è ovvio che questo è l'unico sistema che abbiamo per in qualche modo interrompere questa catena che è legata all'infezione dal coronavirus ora poi nell'ambito reumatologico come anche nell'ambito oncologico alcuni di noi si sono posti il problema se i farmaci che utilizziamo in qualche modo possono essere in qualche modo modificare anche la diciamo l'attività del vaccino e in effetti alcuni studi ci fanno pensare ad esempio che alcuni farmaci come Rituximam probabilmente necessiti di una certa attenzione e tant'è che abbiamo proprio col gruppo del professor Galli stiamo partendo con un lavoro prospettico in cui staremo a vedere se i pazienti affetti da patologie ad esempio aromatiche infiammatorie oncologiche oppure anche la sclerosi multipla c'è pazienti che usano farmaci chiamiamoli immunomodulanti per usare un termine più corretto abbiamo ad esempio una minore sviluppo di anticorpi anti cioè GGGM cioè anticorpi che in qualche modo proteggono l'individuo dalla patologia per cui però questo lo sapremo negli studi prospettici successivi tutte le altre patologie assolutamente la vaccinazione deve essere fatta il grande problema che noi ci troviamo spesso ad affrontare anche al telefono o anche via email perché i pazienti ce lo continuano a chiedere è se c'è qualche cosa che in qualche modo potrebbe modificare la risposta vaccinale o indurre lo sviluppo di altre malattie autoimmuni nel vaccino c'è stata credo un po' di confusione all'inizio dei messaggi anche un po' discordanti a livello massmediatico ma adesso il discorso è abbastanza chiaro credo che tutti siamo orientati a vaccinarsi il prima possibile ci sono ancora dei no vaccination ma insomma siamo veramente nell'ambito di poche di una percentuale molto bassa non so cosa dici tu Massimo ormai credo che il concetto è che tutti devono fare il vaccino è assolutamente passato ma non mettevo in dubbio questo in realtà se ben ci pensiamo stiamo parlando di vaccini che da questo punto di vista quelli che andiamo a proporre oggi hanno molto minore probabilità di creare dissesti a livello immunitario di quanto sia ad esempio il vaccino dell'influenza che pure è molto consigliato ed è molto anzi è poco praticato ma molto consigliato e per il quale comunque abbiamo già una vasta esperienza che ci dice che non modifica sostanzialmente un bel nulla dal punto di vista del creare problemi seri ripeto quello del vaccino antinfluenzale è un vaccino di componenti è un vaccino comunque da virus morto è un vaccino che crea che comunque è assai meno raffinato nei meccanismi dei due tipi di vaccini che si stanno affermando ora come vaccini anti-covid quello RNA messaggero è quello con un virus inerte come vettore quindi da questo punto di vista francamente non vedo preoccupazioni particolari professor Galli c'è una domanda da parte di un medico sono un medico appunto e sono stato vaccinato con vaccino pfizer dopo pfizer dopo quattro giorni dalla seconda dose non ci sono anticorpi gg e igm mi hanno detto di ripetere il dosaggio igm e igg dopo venti giorni dalla seconda dose se negativi devo fare terza dose o cambiare vaccino è così? beh sulla terza dose non l'ha ancora mai detto nessuno forse toccherà capire bene ma bene come stanno le cose sulla seconda dose sul cambiare vaccino idem come sopra il dato di fatto è che apparentemente non c'è risposta bisogna anche essere certi di aver fatto il test giusto cioè un test in grado di leggere bene gli anticorpi anti-S perché questi vaccini sono molto molto selettivi nell'indurre una risposta che è soltanto quella contro gli antigeni del cosiddetto spike virale non ci sono tutti gli altri anticorpi non ci sono gli anticorpi contro il nucleo capside perché comunque non hai ricevuto l'informazione che ti consente di montare la risposta anche su quelli però ecco e ci sono dei test che leggono solo il nucleo capside e non leggono sufficientemente lo spike però insomma dato per scontato che abbia fatto il test giusto ahimè sembrerebbe essere in quel per cento ridotto per cento di persone che non hanno risposto o hanno risposto in maniera lenta se non ci sarà una risposta evidenziata anche ai successivi test bisognerà vedere quale sarà la strategia che attualmente non è ancora definita che verrà assunta per questo tipo di condizioni grazie invece molti pazienti ci chiedono chi invece ha problemi di allergia può farlo o se soprattutto farlo in quale ambiente in un ambiente ospedaliero vabbè senta io l'ho fatto in ambiente ospedaliero sono un asmatico storico con un asma allergico e una quantità di allergie documentate dai pollini dai vari pollini alle polveri di casa tale per cui in realtà vabbè forse anche perché ho anche una specialità in allergologia non mi sono dato particolare pensiero considerando il tipo di vaccino l'ho fatto con tutta tranquillità e non ho avuto nessun problema per questo punto di vista non è che un concetto generico di allergia ti esclude o ti mette in particolare ambascia rispetto alla possibilità di fare questi vaccini questi vaccini credo siano anche per il numero limitatissimo di reazioni allergiche che fino adesso sono state segnalate in larga maggioranza anche reazioni non particolarmente marcate per cui però sono veramente limitate a livello internazionale quelle reazioni quindi da questo punto di vista direi che il fatto di avere delle allergie non deve stare a preoccupare anche a livello di farmaci allergie proprio ai farmaci direi proprio di sì perché appunto i principi attivi gli elementi che fanno da aptene o da allergene in farmaci vari sono diversi da un farmaco all'altro non stiamo a mettere tutto nello stesso calderone ho capito è una domanda che è arrivata anche se uno già è stato cioè si è ammalato di covid deve vaccinarsi o no? beh io sto portando avanti una polemica anche dura nei confronti delle autorità sanitarie perché io vaccinerei come avrete capito chiunque gli unici che non vaccinerei e che non vorrei che fossero vaccinati sono quelli guariti da covid soprattutto i guariti recenti ma in generale i guariti da covid e non perché voglio stare a fare lo sparagnino cioè l'avaro di vaccinazioni ma insomma c'è anche da fare una considerazione in Italia ci sono almeno due milioni che sanno di persone che sanno di aver avuto la covid e ci sono altri due milioni che l'hanno avuta non lo sanno più o meno il che vuol dire che dal più almeno tutto questo totale di persone ci costerebbe un bel 8 milioni 4 di sicuro e 4 probabili di dose di vaccino ora in questo momento in cui non abbondano le dosi di vaccino non è proprio il caso di vaccinare chi è già immunizzato ma c'è anche un'altra considerazione che credo che sia importante abbiamo avuto diverse reazioni più marcate più fastidiose in quelli che la malattia l'avevano già avuta ma è abbastanza normale questo no? sì infatti mi scusi se ne interrompo Carlin Milena dice proprio questo ho avuto il covid un mese per negativizzarmi ho fatto il vaccino sono stata parecchio male soprattutto per la seconda dose è stato molto molto peggiore del covid febbre è alta vabbè sta allentare tutti i sintomi lo sto facendo in tutti gli ambiti possibili da settimane infatti è piuttosto incavolato rispetto a questa questa è stata una scelta di tipo burocratico amministrativo da talebani della sanità pubblica che non ha senso compiuto l'hanno anche detto dicendo qualche cosa che secondo me è falso quelli del CDC d'Atlanta che ci sono prove che si può fare tranquillamente anche nelle persone che hanno già la vaccinazione anche nelle persone che hanno già fatto la malattia si può fare e non facciamo il morto ma facciamo una cosa abbastanza assurda in tutti quelli che hanno fatto la vaccinazione in cui abbiamo avuto modo di fare il titolo anticorpale il titolo anticorpale nei vaccinati che avevano avuto già l'infezione è saltato subito quasi fuori in molti quasi fuori di possibilità di misurazione è evidente è rifare un challenge con un vaccino rispetto a una malattia finita da poco non c'è precedente in storia della medicina che suggerisca di fare questa cosa l'abbiamo fatto per il morbillo d'accordo in persone che non ricordavano se da bambini avevano fatto l'infezione o se avevano fatto il vaccino e allora invece di fare la titolazione degli anticorpi antimorbillo anche perché poi la possibilità di non trovarli sarebbe stata importante anche in quelli che avevano già fatto il morbillo abbiamo fatto la vaccinazione punto e chiuso a distanza però di anni e anni se non decenni rispetto a a quella che era la data possibile in cui questi avevano avuto il morbillo facciamo la vaccinazione anti zoster in persone che comunque hanno ancora addosso il virus perché il virus della varicella quando ti fai la varicella il virus della varicella ti resta poi per tutta la vita nascosto in certe terminazioni nervose ecco lì perché facciamo la vaccinazione anti zoster per rafforzare la capacità di difendersi nei confronti delle recidive ma anche quella è una cosa che avviene decenni dopo aver avuto l'infezione iniziale in persone che hanno ancora l'infezione addosso rispetto alla quale tu vuoi creare una maggior barriera di risposta immunitaria ma santo cielo qui si tratta di un'infezione che non rimane cronicamente e che è stata fatta pochi mesi prima la base proprio anche scientifica di rifare la vaccinazione subito a quelli che sono stati appena addirittura gente che aveva finito di essere malata 15 giorni prima ma è una stupidaggine di grossa di portata colossale e faccio veramente fatica a trovare giustificazione e invece prof nel caso in cui qualcuno che fa il vaccino quindi prima dose sviluppa la sintomatologia la malattia come è capitato può fare deve fare la seconda dose i primari due a cui è capitato l'ospedale della nostra azienda è possibile ovviamente in fase pandemica come quella che viviamo adesso che persone perfettamente in ottime condizioni che sono magari inconsapevolmente infettate da pochi giorni facciano la vaccinazione non sapendo di essere infettati e sviluppino qualche sintomo o per qualsiasi motivo facciano un tampone e si ritrovino positivi subito dopo nei giorni nella settimana successiva di aver fatto la vaccinazione queste persone sono persone che ovviamente hanno avuto una così una contemporaneità di eventi senza esserne consapevoli e queste non devono fare la seconda dose perché qui chi di dovere si è svegliato e ha detto vabbè la seconda dose in questi non la facciamo ho capito prof Piercarlo Sarsiputtini è una decisione di AIFA certo certo professor Sarsiputtini invece una domanda per lei mi arriva la fibromialgia peggiora se una persona si ammala di covid beh direi proprio di sì abbiamo fatto proprio un lavoro anche in cui ha partecipato anche Massimo in cui abbiamo confrontato i pazienti fibromialgici esenti covid con quelli che avevano sviluppato il covid in effetti il quadro clinico soprattutto nella astenia e nella dolorabilità c'è un netto peggioramento e l'altro dato che emerge è che questo peggioramento tende a persistere nel tempo questo lo vediamo anche in qualche modo nei pazienti non fibromialgici ma che sviluppano il covid una certa quota di questi pazienti come diceva prima anche Massimo ma sicuramente la stanchezza che persiste nel tempo ma questo siamo già abituati a vederlo in molte forme post virali e ovviamente il coronavirus non fa eccezione a questo ma in un circa il 20-25% dei pazienti che hanno avuto un'infezione da covid persiste nel tempo una sintomatologia articolare artromialgie che tendono gradualmente a scomparire nel tempo ma sulle quali per adesso non abbiamo una risposta definitiva perché non abbiamo ancora raccolto dati a sufficienza per capire se nell'arco di 6-12 mesi la sintomatologia si attenua e scompare o se in qualche modo il covid potrebbe fungere da stressor per sviluppare nei soggetti predisposti un quadro di sindrome fibromialgica concomitante quindi da quello che ho capito cioè il covid potrebbe generare una qualche una sindrome diciamo da dolorosa cronica stenica che magari inizialmente non è inquadrata come sindrome fibromialgica però nell'arco del tempo potrebbe diciamo che tutte le infezioni virali sono dei veri propri stressor per eventualmente disturbi da sensibilizzazione centrale cioè quelle forme che in qualche modo rientrano nell'ambito della fibromialgia o delle sindrome di affaticamento cronico per chi le voglia considerare due patologie diciamo distinte perché questo accada non lo sappiamo fino in fondo alcuni studi ci fanno vedere che c'è una rallentata risposta dell'assipotalamipofisi su rene nel cortisolo che viene prodotto misura minore anche se nella normalità ci sono alcuni aspetti di disautonomia cioè in qualche modo sembrerebbe che l'adattamento dei nostri assi neuroendocrini venga modificato da un'infezione di tipo virale e ovviamente il coronavirus non fa eccezione per questo vedremo poi nel tempo che cosa accade perché è molto interessante sarà vedere quando abbiamo i dati a 1, 2, 3 anni che cosa appunto residua nel del covid è chiaro che non esiste soltanto l'area del dolore o della fatiga la sindrome post covid è una sindrome molto complessa e ci sono una serie infinita di segni e sintomi descritti tipo vascolare tipo di danno d'organo e credo che anche questo sarà un dato interessante quando riusciremo a estrarre diciamo i dati di quella che noi chiamiamo già adesso sindrome post covid in maniera un po' più diciamo organizzata quando perciò avremo dei dati più spendibili rispetto a quelli che abbiamo adesso se non so massimo cosa ne pensi tu della diagnosi di sindrome post covid ma in questo momento ancora una diagnosi un pochino etera non bene inquadrata con dei criteri specifici sì sono assolutamente d'accordo con te che ci toccherà metterci molto bene la testa e anche raccogliono un gran bel po' di dati anche perché c'è sicuramente una componente di ordine molto importante credo di ordine psicologico in tutta la storia perché molte persone escono psicologicamente segnate dall'esperienza e molte altre lo sono magari state dalla sindrome anche ansiogena che hanno vissuto chiusa in casa tutta la parte della prima fase della pandemia ha visto le persone che non erano così gravi da dover venire in ospedale e dover rimanere in casa senza sapere nemmeno bene se si erano infettati o no e questa cosa qua ha fatto discreti disastri devo dire dal punto di vista dell'impatto psicologico però a monte a valle di tutto questo ci sono tutta una serie di condizioni che meritano di essere meglio definite meglio spiegate persone che hanno dolori o impacce importanti ad esempio a livello degli arti superiori o di uno solo degli arti superiori persone che hanno qualche difficoltà di deambulazione o comunque ne abbiamo viste diverse di queste cose qua Piercarlo il punto è non so qualcuno che come non so se l'hai visto il signore che ti ho mandato ultimo che ha una specie di no ecco che va capito e inquadrato anche a sua volta insomma sono diverse le situazioni di questo genere che probabilmente ci daranno la possibilità di farci anche una cultura specifica forse anche potrebbe essere utile capire e utilizzare magari l'esperienza che verrà fuori da covid per inquadrare altre situazioni che non sono a migliare e che sono invece state messe in relazione con altre infezioni virali rispetto alle quali questa qua ha come dire tempi e modi molto più facili da definire no da inquadrare e anche una serie di esami fatti importanti per quelli che sono stati hanno dovuto andare in ospedale tali da darci informazioni mi sentirei di dirlo come anche come auspicio in modo che vengano fuori informazioni e dati utili nella misura possibile quindi diciamo che anche la stessa la stessa situazione si ripercuota non solo per il discorso di sviluppo di fibromialgia ma anche di altre patologie reumatico o teomoni cioè il covid potrebbe generare altre appunto patologie soprattutto di natura autoimmune qualcosa c'è ma dobbiamo ancora vedere se si tratta di una slatentizzazione di cose che erano già preesistenti o se si tratta di qualcosa che nel contesto di una condizione che ha comunque impattato pesantemente sull'organismo o se si tratta di qualcosa che in qualche modo ha una relazione diretta con questo virus ricordiamoci che per molti anni c'è stata la tendenza da un certo punto di vista come se fosse un elastico a ricondurre la reumatologia alle malattie infettive e viceversa cioè nel senso che è chiaro che l'aspetto diciamo infettivo sia batterico da un certo punto di vista ma virale in particolare gioca un ruolo rilevante anche nelle malattie autoimmuni tant'è che alcuni di noi ritengono che forse la genesi di molte di queste malattie sia veramente una genesi virale o infettiva e ancora adesso discutiamo su varie patologie che condividiamo con gli infettivologi che cosa nasce prima se l'uovo è la gallina o se effettivamente il nostro sistema immunitario ha una modulazione su cui tanti aspetti voi virus batteri voi autoanticorpi giocano un ruolo di modulazione differente a seconda della tipologia del tuo sistema immunitario ecco perché sono così in qualche modo legate queste due branche anche da un punto di vista fisiopatologico per molti degli aspetti clinici che analizziamo professor Sarci una domanda i farmaci insomma quelli biologici quelli che vengono usati per attrite reumatoide insomma malattie insomma similari sono in grado di bloccare l'insorcienza di questa patologia diciamo questa è una storia ormai che data da qualche mese diciamo non da qualche anno perché ovviamente questa infezione è molto più recente alcuni degli aspetti di questi farmaci erano sicuramente interessanti per quale motivo perché una delle cose che si temeva di più nell'ambito delle infezioni da covid era l'iperinfiammazione che in qualche modo era quella che poi ti creava problemi soprattutto a livello polmonario nei danni d'organo è ovvio che l'utilizzo di questi farmaci che modulano le citochine modulano il rapporto tb-linfociti ovviamente può essere un fattore diciamo significativo nella riduzione dell'entità dei sintomi abbiamo imparato che alcuni di questi farmaci in alcuni casi possono funzionare in altri è molto importante il timing cioè quando tu li utilizzi in base allo stadio della malattia ma ancora adesso abbiamo dei dati che non sono totalmente conclusivi tant'è che una vera e propria terapia della malattia indipendentemente dal tipo di farmaco che sia un farmaco di quelli che utilizziamo noi in reumatologia o sia un farmaco diciamo di area infettivologica non è certo adesso sono emersi di recente anche gli anticorpi monoclonali per cui è chiaro che si sta cercando insieme al vaccino che ovviamente è una risposta più decisa da un punto di vista del profilassi della malattia si stanno cercando anche soluzioni terapeutiche perché ovviamente l'infezione ce l'ha e ci sono tantissimi studi in corso alcuni dei quali hanno dato anche risultati discordanti soprattutto per quanto riguarda gli impi fabrici che usiamo noi in reumatologia l'altro aspetto è anche l'altra fase della medaglia come abbiamo detto prima i pazienti che fanno questa tipologia di farmaco sono più a rischio di situazioni peggiorative in effetti non sembrerebbe di no sembrerebbe che la prevalenza di malattie cioè di di covid di infezioni di covid sia abbastanza simile tra chi fa questa tipologia di farmaco e chi invece è il gruppo di controllo che è un perfetto benessere però sicuramente alcuni di questi farmaco ci possono soprattutto nei soggetti con polipatologia nei soggetti che fanno altro dosaggio di cortisone di una certa età indurre un maggior rischio di quadro clinico più severo ok chi è in gravidanza professor Covid no professor Covid chi è in gravidanza deve fare il vaccino può fare il il vaccino appunto professor Galli le società scientifiche si sono espresse in questa direzione vale anche qui il discorso che abbiamo già fatto non è che sia stato sperimentato il vaccino nelle gravide però per tutta una serie di considerazioni le società scientifiche lo consigliano nella gravidanza e nell'allattamento tenendo tenuto conto che siamo in una situazione in cui il rapporto costi benefici è molto maggiore diciamo rischi e vantaggi è molto maggiore e pende dalla parte dei vantaggi rispetto a quella dei rischi e invece c'è qualcuno che non può farlo guardi che non lo possa fare direi nessuno persino quelli che a cui io non lo farei che sono quelli che si sono già infettati non è che poi fanno il vaccino e hanno problemi gravissimi hanno reazioni importanti che sarebbe inutile fargli avere ma non succede poi molto più di questo ci sono purtroppo quelli che verosimilmente anche se lo fanno non risponderanno e sono i portatori di alcune immunodeficienze rare ma anche molte persone invece che è tutt'altro che è così raro che hanno malattie ad esempio linfomi leucemie o sono in trattamento come non so ecco cosa potranno che risposta potranno avere i trapiantati di midollo immunodepressione costante in questo tipo di situazioni la possibilità di una risposta al vaccino è molto subiudice anzi probabilmente è da pensare che non ci sia una valida risposta poi ci sono persone che non rispondono non si sa perché voglio dire mi ricevo continuamente domande negli ultimi giorni da quella parte di colleghi meno del 5% del totale dei vaccinati che dicono accidenti sono più di 10 giorni dalla seconda dose e io gli anticorpi non ce li ho ecco sicuri al mille per mille che quelli non abbiano risposto non lo siamo però probabilmente hanno risposto poche male e sono completamente sani quelli che mettiamo in conto che non risponderanno sono i malati con le immunodepressioni più gravi e lì potrebbero venire buono in caso di necessità gli anticorpi monoclonali infatti che si inizia a parlare ma a proposito dei malati cronici adesso usare in chiave preventiva cosette che costano migliaia di euro a fiala è un complicato ma in linea di prospettiva credo che si possa arrivare alla realtà più ragionevole certo certo allora fino adesso c'è stato soprattutto nell'ambito delle associazioni dei pazienti dei malati cronici dobbiamo essere sinceri i malati cronici oncologici insomma di tutte le categorie purtroppo siamo stati abbandonati a noi stessi io in rappresentanza di un'associazione che si occupa di malati fibromialgici ho proprio percepito e visto con i miei occhi che il paziente è stato lasciato solo senza possibilità di accedere a un consulto medico proprio perché o interi ospedali o comunque ambulatori trasformati in covid voi medici interamente assorbiti da questa problematica oltre ai fibromialgici ribadisco tutti i malati cronici adesso so che appunto oggi c'è la notizia che c'è stato l'aggiornamento per quanto riguarda il piano di vaccinazioni noi malati cronici affetti da malattie appunto reumatiche autoimmuni in che scala siamo in che graduatoria siamo abbiamo la possibilità di essere garantiti al più presto oppure insomma che speranze abbiamo ma guardate io penso che siate tra i primi a dover essere vaccinati e credo che questo sia già previsto voglio dire e poi ovviamente tra il dire e il fare ci sono vari problemi uno non trascurabile l'effettiva disponibilità materiale dei vaccini perché per partire bisogna armarsi bisogna averli vaccini voglio dire ecco questa è quella che è stata forse la maggior difficoltà ultima e poi ci sono anche alcuni problemi oggettivi il vaccino Pfizer che è quello che è stato utilizzato di più viene dato in fiale da sei che devono essere no da cui vengono devono essere tratte sei dosi e non è sempre così ovvio riuscire a farlo e poi e quindi ci sono un po' degli squilibri E5 o E6 E6 o E5 ecco da questo punto di vista abbiamo qualche problema in più e poi va conservato a meno 70 è trasferito in luoghi dove ovviamente poi deve essere utilizzato subito e quindi non bisogna che il luogo da cui è stato tratto dal meno 70 e il luogo dove venga utilizzato siano troppo distanti d'accordo si può sempre usare il ghiaccio secco però insomma in buona sostanza per avere il massimo della garanzia qualche problema logistico chiaramente in più c'è e ricordiamoci che ovviamente un sistema come il nostro che è stato bloccato da uno tsunami come quello dell'infestione del coronavirus è ovvio che ha fatto fatica ad adeguarsi sia da un punto di vista territoriale ma anche da un punto di vista ospedaliero ed è credo che questo sia in qualche modo percepito anche dai pazienti che erano abituati ad essere trattati e seguiti in un certo modo che improvvisamente si sono trovati senza le strutture di riferimento però d'altronde la situazione era di emergenza ancora adesso stiamo riorganizzando si sta riorganizzando un sistema sanitario che da un lato deve curare i pazienti affetti da coronavirus dall'altro deve mantenere un trattamento appropriato per i pazienti che c'erano già prima e dall'altro deve organizzare un piano vaccinale che ovviamente deve riguardare quasi l'intera popolazione che non è così semplice da mettere in alto per cui credo che adesso ci stiamo riorganizzando in modo che tutto questo sia possibile ma credo che non sia un problema solo italiano è stato un problema praticamente in tutto il mondo ecco per cui infatti allora io direi una cosa noi siamo già appunto alla nostra oretta quindi dobbiamo insomma chiudere anche per liberare abbiamo portato purtroppo questo ritardo mi scuso ancora per questo problema tecnico però comunque ce l'abbiamo fatto direi di fare è una cosa di magari se anche lei professor Sarsi cioè dare proprio i punti salienti perché molta gente si è collegata successivamente quindi continua a chiedere quindi vaccino sì vaccino no problematica per chi è malato affetto da altra patologia sì o no in modo che così perché continuano ad arrivare queste tipologie di messaggi quindi entrambi in maniera molto sintetica date degli input chiari e precisi in modo che così i pazienti sappiamo quello che dobbiamo fare io darei la parola a Massimo che è sicuramente ormai super esperto nel tracciare i bullet point del discorso vaccinazione e io poi dico due parole sui malati reumatici il vaccino deve essere fatto rapidamente e al massimo numero possibile di persone il più rapidamente possibile questo è anche importante non ne abbiamo parlato finora per arginare le possibilità di trovarci delle sorprese con varianti virali particolari e anche per ridurre la possibilità che il vaccino stesso faccia da selettore di nuove varianti perché questo è possibile tanto più quanto più il brodo si allunga i tempi si allungano quindi vaccino sì vaccino praticamente a tutta la popolazione abbiamo ancora problemi aperti un primo problema aperto è il fatto che non abbiamo il vaccino per sotto quelli sotto i 16 anni cosa assai fastidiosa perché non è stata fatta nessuna sperimentazione sufficiente per poter vaccinare anche i più giovani e i più piccoli però ci arriveremo voglio dire in realtà in realtà tutta una serie di categorie di persone mancano comunque di dati così come mancano nei minorenni ma mancano dati dalla gravida al paziente reumatologico tuttavia l'orientamento e la convinzione delle società scientifiche è vaccinare praticamente tutti quanti ho espresso la mia perplessità rispetto alla necessità di vaccinazione di quelli che sono già guariti ma questo è un altro discorso i già guariti dalla malattia dovrebbero essere messi in un elenco a parte considerati nel tempo non sappiamo esattamente quanto tempo dura la copertura vaccinale nel senso se ti vaccini con le due canoniche dosi oggi quanto tempo rimani immunizzato non lo sappiamo semplicemente perché lo vedremo vivendo questo nel senso che dovremmo capire queste cose nel tempo e dovremmo vedere anche come evolve l'epidemia in generale però è verosimile che la protezione rimanga a lungo così come rimane a lungo a quanto pare la protezione è conferita dalla infezione naturale ed è il motivo per cui rivaccinare subito almeno questi quelli che hanno avuto l'infezione e sono guariti ha poco senso per quanto riguarda il discorso degli effetti collaterali degli eventi avversi nei vaccini che abbiamo già citato piuttosto ampiamente degli eventi avversi sono assai limitati e di scarsa rilevanza quindi da questo punto di vista si conferma la possibilità di vaccinare abbastanza estesamente le persone che hanno dai 18 ai 100 anni ovviamente scegliendo di vaccinare prima appunto i più anziani e le persone più fragili la fragilità si misura anche in termini di grado di competenza immunitaria e qui passerò poi il testimone a Piercarlo e quindi bisogna organizzarsi per vaccinare anche le persone che hanno che sono portatori di condizioni di alterazione immunitaria l'essere genericamente allergici ad altre cose non è un fattore limitante per non fare il vaccino tra coloro che hanno meno probabilità di rispondere ai vaccini sono le persone in trattamento pesante con farmaci immunosopressori e i portatori di alcune malattie soprattutto di emolinfopatie tra i farmaci immunosopressori certamente il rituximab che fa fuori giusto le cellule B quindi insomma proprio il centro produttore degli anticorpi ecco mettiamola così per semplificare al massimo e con questo credo di aver detto più o meno tutto io voglio soltanto concludere dicendo che come reumatologi diciamo siamo stati per un certo periodo di tempo arruolati nella falange macedone che si occupava di covid e purtroppo il risultato è che molti dei nostri pazienti si sono sentiti un pochino abbandonati anche se abbiamo cercato in tutto il territorio nazionale come società scientifica come reumatologi perciò sia come SIA come CREI di essere dalla parte del malato e di essere disponibili per le terapie più complicate e per i malati diciamo più complessi adesso credo che gradualmente si tornerà alla normalità per cui questo abbandono dei nostri malati cronici che comunque hanno tutti i diritti di essere curati al meglio si ridurrà drasticamente e si riorganizzeremo per quella che noi possiamo chiamare un'epoca post-covid che probabilmente non sarà la stessa cosa di quello che c'era due anni fa un esempio su tutti il fatto che si stiamo attivando la telemedicina il telemonitoraggio si stiamo cercando di rendere il nostro sistema sanitario più snello è anche più pronto eventualmente a dei cambiamenti a delle modificazioni come quella che abbiamo in qualche modo incrociato con l'esperienza coronavirus che non è ancora finita ma che speriamo nei prossimi mesi in qualche modo di ridurre a un evento assolutamente accettabile anche a livello del nostro sistema sanitario nazionale certo è stato duro è stato un periodo impegnativo adesso noi stiamo raccogliendo i dati con le nostre società scientifiche per quanto riguarda la prospettiva dei farmaci che ovviamente utilizziamo nella nostra panoptologia e anche di quello che accadrà con le vaccinazioni e questo ovviamente nel tempo ci darà ulteriori risultati e riusciremo a essere più concreti e meglio organizzati per quanto riguarda l'assistenza anche dei pazienti cronici e credo che questo sia in qualche modo il messaggio credo che dobbiamo dare ai pazienti di grande fiducia perché è chiaro che esistono i pazienti covid ma esistono anche i pazienti cronici di altre patologie che in qualche modo ovviamente in questo periodo sono stati un pochino non abbandonati loro stessi perché questo non è corretto ma ovviamente con meno disponibilità di tipo ospedaliero di tipo medico insomma perché è ovvio che il covid è stato veramente un tritassassi da questo punto di vista credo che uno dei danni maggiori che lascerà alle spalle proprio questa malattia sono i buchi di assistenza i rinvii di tutta una serie di interventi elettivi il non perfetto adeguamento ai protocolli di molti trattamenti che sono stati in qualche modo diluiti in ambito oncologico in particolare ma ecco forse ci sono stati più morti di infarto perché le persone sono venute meno in tutti i sensi ma sono venute meno in ospedale anche in tutto questo periodo nel 2020 abbiamo avuto tantissimi morti ma molti di più rispetto al 2019 della differenza che emerge considerando le persone morte certamente per covid c'è comunque un surplus che andrà spiegato e su cui sarà necessario meditare parecchio non so se sei d'accordo per Carlo assolutamente certo d'altronde è stata veramente una tempesta diciamo equatoriale per cui sulla quale non eravamo pronti fino in fondo devo dire la verità che chiunque di noi avesse visto i filmati che arrivavano dalla Cina all'inizio mai si sarebbe aspettato un terremoto mondiale di questa entità almeno si sperava che come al solito rimanesse localizzato in terreni lontani invece ci siamo tutti abbiamo dovuto affrontare un percorso molto complicato bene io vi ringrazio veramente di cuore per il prezioso contributo che stasera avete insomma dato alla mia rubrica a tutti i pazienti presenti un particolare ringraziamento personale mio professor Galli per il lavoro svolto veramente in questo da un anno a venire a questa parte per il nostro paese nel riguardo appunto il suo ambito veramente grazie a questa opportunità voglio assolutamente ringraziarla di cuore per quello che ha fatto sta facendo la ringrazio veramente tanto per essere stato qui con noi mi scuso nuovamente per il problema tecnico ma fortunatamente abbiamo risolto in altro modo su questo dei problemi tecnici perché guarda ho scelto tutti quindi non per imbarazzo no ma diciamo che appunto quando poi non dipende proprio personalmente una ci resta ancora più male però comunque ce l'abbiamo fatta comunque la registrazione a prescindere questa diretta che state vedendo su facebook è partita ugualmente sul nostro zoom e quindi andrà poi come link su youtube in maniera lineare precisa vedete direttamente noi non vedete me che sono con la telecamera a video e quindi potete assolutamente quando volete rivedere la registrazione saluto il Cray anche a loro cioè insomma li ringrazio della partecipazione il coinvolgimento spero in altre appunto attività insieme con non problemi tecnologici vi auguro a tutti quanti una buona serata e come dico sempre a conclusione della rubrica io sto con te e tu spero di sì quindi vi auguro a tutti una buona cena ormai visto l'orario mando un bacione mi permettete io poi sono così spontanea e verace al professor Sarsiputti al professor Galli un bel bacio di ringraziamento grazie mille e buona serata ciao ok ciao arrivederci arrivederci a tutti ciao ciao